buona giornata buona giornata da fano tv questa è la rassegna stampa quindi un ben trovati per riconoscere le notizie del giorno oggi è sabato 23 settembre 2023 e vediamo subito chi si festeggia oggi beh oggi come dico sempre è un grande santo perché poi tutti i santi sono grandi ma questo forse lo è in modo particolare perché è molto venerato e molto conosciuto è san pio da pietralcina un santo dotato veramente di poteri straordinari invocato soprattutto dagli ammalati ormai si può dire che non c'è ospedale che non abbia una sua immagine padre pio scomparso il 23 settembre del 1968 è sempre presente sempre presente dove si soffre dove si invoca una necessità impellente e continua in interrotto il flusso dei pellegrini verso san giovanni rotondo dove il frate capuccino visse e fondò la casa sollievo della sofferenza nel 1918 padre pio ricevette le stimmate si dovrebbe parlare tanto su questo santo ma ovviamente noi non abbiamo il tempo e allora passiamo alle previsioni del tempo stesso e vediamo che il tempo leggermente cambiato nei giorni scorsi oggi ha una così una importante deviazione in quanto arriva il maltempo cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge rovesci anche temporaleschi su tutte le marche poi ci sarà anche un rapido miglioramento nel pomeriggio con cieli parzialmente nuvolosi in serata comunque sono previste delle piogge e temperature 22 e le minime 30 le massime le temperature rimangono alte comunque siamo ancora nel declino dell'estate ed ora apriamo il resto del carlino sulla pagina di fano dove vediamo che parte partono molti lavori pubblici in questo periodo ma questo è un lavoro particolare la pista d'atletica zengarini questo monumento di tribuna che è rimasto inagibile da quando è stato realizzato erano i primi anni 90 un impianto che sulla carta sarebbe stato un fiore all'occhiello del comune di fano perché aveva delle caratteristiche in cui per le quali si potevano svolgere gare di carattere nazionale in realtà qualcosa non è andato nella realizzazione degli impianti stessi a parte quello della pista che è stato veramente un intervento molto bello e molto qualificato e ora si cerca di correre ai ripari l'assessore brunori annuncia con questo progetto valorizzata l'integrazione sportiva la prima area sarà quella della tribuna e la vediamo qui la tribuna della pista d'atletica zengarini al cui interno ci sono gli spogliatoi quindi riconsolidare il tutto renderlo agibile farà sì che questo impianto potrà essere veramente un impianto dove si potranno svolgere iniziative di grande di grande prestigio e poi non è finita qui non è finita solo nella tribuna in quanto a margine della pista sarà realizzato un grande padiglione in cui si potranno svolgere gare anche con il cattivo tempo e anche con i rigori invernali quindi un nuovo a una nuova struttura che arricchierà tutta la zona sportiva della trave è uno spazio veramente importante la prossima settimana partiranno i lavori con il primo cantiere previsto per quella zona per la riqualificazione della tribuna questo però non interdirrà ha detto la brunori l'attività della società di atletica leggera almeno fino a dicembre quando spostando i lavori sulla pista circolare si potrà poi utilizzare solo il pistino laterale però insomma non tutti i fiori sono senza spine perché vediamo che nell'articolo di apertura della seconda pagina del corriere adriatico vediamo che ci sono un po dei malumori per quanto riguarda questi lavori ebbene e sono malumori che vengono espressi dalla società di atletica abbiamo perso degli iscritti il presidente delia lamenta la notifica tardiva dei tempi operativi e poi c'è anche una certa delusione per le opere finali senza la copertura della tribuna esclusi i campionati nazionali l'interno è faticente insomma dicevo non tutti i fiori sono senza spine insomma qualche cosa dovrà pur accadere per cercare di equilibrare i due contendenti torniamo al resto del carlino a fondo pagina vediamo invece un articolo di politica il carlino insiste molto per quanto riguarda la politica ma vedremo che anche il corriere adriatico non è da meno e avrà un bel articolo di apertura sullo stesso tema sondaggio da vincente serfilippi salvini candida carloni alle europee una rilevazione e a carattere nazionale però non si dice ancora veramente l'esito finale né chi ha organizzato questo questo o questa indagine ebbene una rilevazione lancia le quotazioni del leghista intanto il deputato potrebbe correre per bruxelles sembra che tutto il centro destra si converga si mostri d'accordo sulla candidatura di luca serfilippi un giovane che ha ricevuto una marea di preferenze nel momento delle elezioni alla regione e che potrebbe fare da coagulo per tutti i partiti che si riconoscono appunto in antitesi al movimento alla coalizione di governo attuale il tutto è condito da un sondaggio che sarebbe stato fatto da un'agenzia nazionale cioè quella che fa capo a pagnoncelli dice il carlino il sondaggio dice che con serfilippi lo schieramento ora all'opposizione risulterebbe vincente il nome di serfilippi sarebbe stato incrociato poi con quello di etienne lucarelli e di barbara brunori due assessori che vengono portati avanti dal sindaco massimo seri per quanto riguarda la coalizione di centro sinistra e poi ovviamente c'è anche la candidatura di samuele mascarin che è stato il primo a così a porsi in avanti a porsi alla scoperto e a proporre le primarie tra i nomi che sono stati messi nel sondaggio oltre a quello di de leo che terrà una convention proprio domani c'è anche quello di stefano guzzi che però insomma anche lui traccheggia perché dice io non so niente non so niente del sondaggio non mi sono fatto avanti io sarò disponibile soltanto solo se ci sarà una richiesta diciamo così universale nel centro destra ovviamente per quanto mi riguarda però io al momento non mi nuovo e invece è autorevole la candidatura per una un seggio parlamentare a mirco carloni che proverrebbe direttamente da matteo salvini ebbene queste sono momento le situazioni però ancora la campagna elettorale è lunga e vedremo che cosa accadrà sul grande schermo il dialetto firmato secchiaroli henri secchiaroli un regista di classe fanese ha fatto una serie di film comici in dialetto fanese di grande di grande successo molti sono stati fanesi che hanno visto questa triologia per quanto riguarda gli sbancati e ora c'è una nuova opera in programma si tratta di un film intitolato due teste di puntini puntini la nuova produzione racconta la storia di due fratelli pensionati si tratta di giorgino con la volpe al secolo giorgio falcioni lo conosciamo tutti un grande attore comico e alfonso con la volpe florindo pecini altrettanto attore beniamino del pubblico che per arrotondare mettono a segno alcune piccole truffe in città insomma è un spettacolo molto molto divertente che potremo vedere sugli schermi anzi no sullo schermo perché verrà proiettato solo al masetti durante i giorni di natale in no alla mobilità sostenibile continuano le serie di iniziative per quanto riguarda la settimana europea della mobilità ieri si è svolta una biciclettata molto nutrita di partecipanti tutti indossanti un giubbetto giallo per farsi vedere sulla strada una sbiciclettata che è partita dal piazzale antistante l'arco d'augusto e poi si è dilungata nel percorso santosso tre ponti fino a giungere nella zona industriale di bellocchi l'arrivo era alla ditta techfem dove è stata offerta anche una colazione il tutto per dimostrare come una mobilità compatibile dal centro storico verso la zona industriale è possibile sono sei chilometri comunque non sono pochi ma però si possono percorrere tranquillamente insomma ci vogliono mezz'ora mezz'ora di pedalate e si respira l'aria e si evita di intasare col traffico motorizzato appunto alla zona industriale ed ora lasciamo fano e passiamo all'entroterra colli al metauro asfaltato a metà e alla cieca è una via dove esplode la protesta dateci la strada lo dicono i residenti si tratta di una via di villanova al colli a metauro abbiamo figli piccoli d'inverno alle 16 imponiamo il coprifuoco veramente perché perché la strada è molto buia si chiede luce si chiedono dei lampioni e poi sono vent'anni che sono al buio si tratta della via dante alighieri a villanova di colli al metauro un quartiere residenziale nato nel 2004 nel quale attualmente vivono circa 35 famiglie per lo più giovani coppie con bambini e i bambini dovrebbero essere messi al sicuro mancano dicevo i lampioni della pubblica illuminazione quelli che ci sono non funzionano è una strada poi asfaltata a metà da una parte abbiamo l'asfalto il bitume dall'altra abbiamo il breccino insomma non si può lasciare certo una strada in queste condizioni e poi passiamo invece di un convegno medico che ha ottenuto un grande successo perché ha trattato una malattia che di solito per certe pruderie si tiene nascosta in realtà è una malattia che ha una certa diffusione che ha una particolare diffusione parlo delle morroide un dolore fastidioso che impone una vita morigerata almeno per quanto riguarda la condotta di vita soprattutto ma anche come si mangia quello che si mangia ebbene medici operatori della croce rossa si sono dati convegno a marotta erano oltre 80 i quali hanno esaminato gli aspetti più tecnologici gli aspetti più emergenti per la cura di questa malattia e ora l'uso del laser sembra quello che sta ottenendo più successi ovviamente il dolore è quello che viene curato in particolare modo quindi chirurgia mini invasiva un convegno molto molto partecipato a urbino c'è un colpo di scena annunciato dal resto del carlino la palestra della piantata si farà mentre sembrava veramente tutto tutto perduto province comune hanno trovato un accordo e ora è stato salvato il finanziamento e l'appalto è già stato assegnato c'è anche una dichiarazione del sindaco maurizio gambini il quale dice piazza gonzaga sarà consolidata e verranno realizzati istituiti nuovi giochi per i bambini vediamo anche un articolo che riguarda che riguardano i funghi ormai siamo in autunno è la stagione dei funghi e il nostro territorio oltre al tartufo e oltre a veramente dei prodotti dell'agricoltura che in autunno hanno veramente uno sviluppo e un gusto eccezionale ci sono anche i funghi e San Siste è un po' la capitale della produzione dei funghi e lì c'è un gran profumo dice il resto del Carlino siamo alla 54esima edizione della tradizionale festa del fungo mostra micologica regionale che si terrà in che si terrà oggi e domani e nel weekend che va dal 30 settembre al primo ottobre quindi il prossimo settembre il prossimo weekend insomma quello della prossima settimana a a San Sisto e raggiungere San Sisto è anche una bella occasione per fare un viaggio nell'entroterra e conoscere poi tanti altri centri che magari rimangono un po' discosti dagli itinerari abituali degli stessi marchigiani e degli stessi abitanti della provincia di Pesaro e Urbino vediamo anche qualche notizia sulla pagina degli spettacoli Urbino dopo l'armistizio nei documenti storici oggi c'è l'apertura straordinaria dell'archivio di Stato nel pomeriggio alle 17 un aperitivo per approfondire vicende e materiali esposti e ricordiamo che questo weekend è dedicato al patrimonio dei beni culturali quindi l'archivio fa parte di questo grande patrimonio e poi per quanto riguarda Pesaro abbiamo un richiamo al progetto degli orti giulli il progetto in vita archivio di Stato e scuole superiori pesaresi insieme si sono coalizzati per scoprire gli strumenti scientifici del Settecento quindi una scoperta interessante per i ragazzi vediamo anche le pagine di Pesaro che riguardano il resto del Carlino si parla della capitale della cultura per il 2024 abbiamo qui il vice sindaco Vimini che annuncia una super cerimonia di apertura a cui interverrà anche il presidente Mattarella verrà organizzata alla vitifrigo arena dove ci sarà posto per circa 10 mila persone quindi ci sarà tanto pubblico a festeggiare l'arrivo del presidente il vice sindaco Vimini a tutto campo la festa iniziale con Mattarella a leviti frigo arena sarà un grande spettacolo ha detto poi si darà spazio ai 50 comuni e a una serie di eventi senza sosta per tutto l'anno ma ancora questo programma nei particolari deve essere reso noto vediamo che la gestione dello spazio food del vecchio palace quella a cui immagine finalmente si sta un po' consolidando perché insomma l'abbiamo vista sempre sempre coperto di tubi di impalcature e cose del genere l'aspetto invece è piuttosto accattivante vediamo che la gestione della del del bar e poi anche di un supermercato è stato affidato alla lega cop vecchio palace conquistato appunto dice il resto del carlino e poi vediamo un episodio di cronaca ancora una violenza di una violenza sessuale nei confronti di una ragazza l'accusa di una ventenne chiusa e violentata davanti al jeep il drammatico racconto di una barista tutto dopo la sera in disco a Rimini ebbene questa ragazza nella notte in una notte del mese di maggio del 2022 ha conosciuto lei era romena ha conosciuto un connazionale che vive appunto nel nostro territorio ha accettato un passaggio fino alla propria proprio paese di residenza a tavuglia e poi invece questo ragazzo insomma l'ha accompagnata a casa e poi gli ha messo le mani addosso ecco perché è stato denunciato a questo punto passiamo al corriere adriatico e vediamo l'apertura eccola l'apertura di politica del corriere adriatico un articolo che guarda perché richiama delle dichiarazioni del sindaco massimo seri quindi si concentra l'attenzione mentre sul carlino si parla del centrodestra qui si parla del centrosinistra nuovo patto per la città e le primarie il sindaco convoca il centrosinistra c'è un'accelerazione di seri che esalta i risultati e ottenuti e indica le sfide la strada per scegliere il successore ebbene massimo seri che cosa ha fatto di ritorno da rastat dove è andato per cementare il gemellaggio con la città tedesca ha inviato una lettera agli assessori ai capigruppo ai segretari politici ai referenti dell'alleanza che presiede la gestione del comune per un confronto collegiale convocato per mercoledì prossimo alle ore 21 ancora non si sa dove si terrà questa questa sede forse viene tenuta segreta per non fare uscire poi delle indiscrezioni è un'iniziativa comunque autorevole che stimola un po' l'orgoglio della maggioranza in merito allo spirito di iniziativa invece che ha intrapreso il centrodestra dove da tempo emergono dei nominativi per i sindaci a Fano per quanto riguarda il centrosinistra ci sono anche nel centrosinistra abbiamo parlato di mascherini abbiamo parlato di etienne lucarelli di barbara brunori al momento sono questi i nomi che si fanno ma ovviamente sono nomi ancora informali perché le candidature vere e proprie a parte quello di mascherini è uscito completamente era scoperto ancora non sono stato fatto comunque dicevo che ora il sindaco stringe un po' i tempi e pone il centrosinistra all'azione è una azione che marginalizza titubanze e riserve sulle elezioni primarie dopo le sollecitazioni che ha fatto mascherin ottenendo addirittura mille firme a sostegno della sua decisione si sta concludendo il mio secondo mandato ha dichiarato il sindaco massimo seri sono stati dieci anni di enorme lavoro e di appassionato impegno al servizio della città anni che ci hanno consegnato tante soddisfazioni e durante i quali abbiamo raggiunto obiettivi ragguardevoli per la nostra città che avevamo invece ereditato stanca delusa e immobile a maggior ragione dobbiamo essere orgogliosi dei traguardi oltre i quali abbiamo guidato la nostra comunità abbiamo dato un nuovo orizzonte a Fano centinaia di milioni di investimenti un nuovo protagonismo dei corpi sociali e un nuovo dinamismo per certi aspetti senza precedenti che ha ridato forza fiducia e autorevolezza alla città sono queste le dichiarazioni del sindaco che ovviamente loda l'attività compiuta in questi ultimi dieci anni dove sono state realizzate diverse opere e dove ora si cerca di raccogliere i frutti degli ultimi investimenti abbiamo detto che in questo weekend si celebrano le giornate del patrimonio e anche Fano propone appunto la scoperta delle sue iniziative scoprire le bellezze della nostra città e promuovere modalità che avvicinino i cittadini al patrimonio archeologico e storico in occasione appunto delle giornate europee oggi per iniziativa dell'assessore alla cultura Cora Fattori sono previsti due tour guidati in bicicletta sperando che il tempo mantenga perché già è stato annullato il tour in bicicletta con il sindaco che faceva parte delle giornate europee del mobilità alle 17 la partenza è da piazza 20 settembre per accedere alla corte malatestiana in cui ha sede il museo civico e per concludere la visita con una faccia altrettanto d'effetto sulla chiesa di San Pietro in valle che potrà essere vista soltanto dalla porta senza entrarvi perché dentro ci sono ancora i sondaggi fatti dalla Università di Urbino che dovrebbero essere conclusi tra non molto insomma per poi procedere ai lavori di risanamento ambientale per quanto riguarda l'umidità all'interno della chiesa passiamo a Fossombrone a Fossombrone è una risorsa il cammino dei cappuccini un elogio del turismo lento il deputato Baldelli di Fratelli d'Italia Antonio Baldelli ha presentato all'Ennit di Roma l'itinerario delle Marche il cammino dei cappuccini che parte dal convento di Fossombrone dove addirittura l'ordine è nato nel XVI secolo per raggiungere poi Ascoli Piceno è stato presentato a Roma nella sede dell'ente nazionale del turismo il cammino consta di 17 tappe verranno attraversati 25 comuni di tutte le province marchigiane uniti da un percorso di circa 400 chilometri ebbene questo turismo lento dà la possibilità di vedere cose che quando si procede in macchina non si notano non si vedono e quindi non si apprezzano al lavoro a Bellocchi in bici prova per 60 l'amministratore della Tecfem Federico Ferrini la nostra formula è più mobilità dolce meno auto nella città in questo articolo pubblicato dal Corriere Adriatico si parla della sbiciclettata di cui abbiamo detto in precedenza che è partita dall'arco di Augusto per arrivare appunto nella zona industriale di Bellocchi e qui vediamo nella fotografia in questo caso la vediamo non pubblicata bene insomma è un po' appannata comunque si vedono benissimo tutti coloro che hanno partecipato con i loro giubbetti gialli a questa iniziativa interessante e quando si va in bicicletta insieme è sempre piacevole ed ora parliamo di tartufo e parliamo di pergola un binomio interessante che valorizza un po' tutto il territorio tartufo i turisti da tutta italia richiamo dei raduni camper i raduni camper si vanno nelle città d'arte e cultura ma sono spesso indirizzati nei luoghi dove si mangia bene perché stare in compagnia attorno a una tavola è sempre molto molto piacevole altrettanto che andare in un museo forse un pochino di più però insomma ognuno poi ha i suoi gusti è stato confermato dalla Proloco l'abbinamento per tre weekend con la fiera di pergola gli appuntamenti si terranno nei weekend di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre sabato 7 ottobre e domenica 8 sabato 14 e domenica 15 quindi tre weekend per assaporare il tartufo di pergola vediamo anche la pagina di senigallia di senigallia abbiamo ancora il piccolo francesco lignola il bambino di 10 anni morto in seguito ad un incidente stradale ricordi e preghiere tutti per francesco un delfino di peluche che hanno regalato al papà perché al bambino piaceva nuotare il nonno del bimbo di 10 anni morto in bicicletta ha detto ci guarda dal cielo con l'affetto di sembre i funerali di questo piccolo slittano alla prossima settimana la salma è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria per capire per capire bene le modalità in cui si è svolto l'incidente siamo in conclusione mi rimane soltanto un piccolo spazio per vedere l'articolo di apertura sulla pagina di pesaro dove si parla del calvario di via fratti anni di vita nel caos con l'incubo di incidenta di incidenti residenti commercianti protestano siamo in trappola e non vediamo la fine e con questo chiudiamo i nostri giornali io vi auguro un buon weekend ci risentiamo lunedì alle ore 7 e quindi a questo momento vi lascio e ci risentiamo grazie per l'ascolto grazie a tutti